All'Armitaglia da Bruxelles, dove la Commissione europea ha presentato il rapporto sugli squilibri economici ebbene al nostro paese serve un fisco utile alla crescita, il debito è alto e ancora il bel paese potrebbe contagiare l'Unione europea. E tra i responsabili ci sono le banche più deboli rispetto al 2011 e incapace di sostenere l'attività economica e il risanamento. Il rapporto sottolinea come l'andamento dell'export, la perdita di competitività, il debito elevato o in una situazione di crescita condizionata richiedono attenzione per ridurre i rischi di effetti avversi. L'Italia, secondo lui, resta ancora vulnerabile agli improvvisi cambiamenti degli umori dei mercati e questo evidenzia l'esigenza di mantenere il miglioramento del bilancio in termini strutturali. Di diverso avviso l'Ox, secondo cui l'economia italiana sta per vivere una svolta positiva in un contesto in cui la crescita si sta risollevando in tutte le maggiori economie.